Si spegne la luce per le famiglie in emergenza abitativa a Foggia, sfratto immediato per quelle dell'ex distretto militare. Dopo le rassicurazioni e le proposte sul tavolo per risolvere la grave emergenza abitativa delle 12 famiglie di via Fuliani e delle famiglie anche della terza traversa di via San Severo a Foggia che da decine di anni vivono in alloggi precari, oggi la mazzata finale. Per le famiglie dell'ex distretto militare non ci sono soluzioni e la commissione straordinaria del comune di Foggia comanda l'immediato sfratto, un'indicazione che manda nello sconforto totale le famiglie che aspettavano invece una casa temporanea, un alloggio temporaneo così come in questi giorni era stato detto da più parti sia da Arca che dal comune che dalla regione Puglia. Al momento però la soluzione non è pronta o almeno questo è quello che avrebbero riferito alle famiglie al comune di Foggia. Non ci sarebbero case per loro dunque l'unica soluzione è quella di lasciare immediatamente la palazzina dell'ex distretto militare anche perché in quell'area dovrebbe sorgere il museo dedicato a Umberto Giordano e per il quale museo sono stati già stanziati milioni di euro. Oggi dunque una notizia che manda nello sconforto le famiglie che chiedono spiegazioni e soprattutto di non essere lasciate in mezzo ad una strada. Hanno ufficializzato che ci davano gli alloggi precari, che si prendevano lo stabile e tutto, ma ci vogliono mettere in mezzo alla strada, ma che stiamo a fare i pazzi qua? Ma con chi è che abbiamo a che fare? Io non lo so, noi siamo esseri umani, non siamo burattini che ci vengono a prendere per peso. Si dice che nella settimana viene lo sgombero non c'è niente, noi siamo stati al comune stamattina. Adesso invece andiamo a finire in mezzo alla strada, io non so dopo 23 anni andare a finire in mezzo a una strada ma si rendono conto. Noi ci avete buttato in mezzo alla strada e io verrò davanti al comune, ve lo posso garantire perché io non ho nessuno, sono morti tutti e viceversa anche gli altri stanno anche in una brutta situazione. Scusate, io ho capito, dobbiamo aspettare l'alloggio, il numero e che è? E ora che dopo moriamo, buttiamo il sangue?